Sarà riconsegnato alla città venerdì prossimo l'area verde comunale di via Casalbordino a Chieti, riqualificato dall'amministrazione in sinergia istituzionale con i carabinieri forestali. Il rinato parco denominato dai bambini della vicina scuola Giardino del Sole. L'annuncio questa mattina in occasione della festa nazionale dell'albero. L'iniziativa è volta a sensibilizzare le generazioni future, invitarle a conoscere l'ambiente per tutelarlo e cominciare dai bimbi che sono la nostra presenza. Questo è il messaggio della comandante dei carabinieri forestali tiziana Altea. Le piante che verranno messe a dimora avranno un cartellino identificativo con un QR code che informa sulla percentuale di CO2 che la pianta sta introitando, ottenendo così una consapevolezza anche maggiore nell'economia complessiva. Dieci in totale le nuove piante, leccio, sorbo, melo selvatico e piccoli animali legati a un'area urbana. Abbiamo scelto questo spazio che è uno spazio che si colloca in una posizione perfetta perché dietro tre scuole, è situata dietro tre scuole che sono due asili e la scuola elementare e con il corpo forestale, con i carabinieri forestali abbiamo scelto sul loro proposta di rigenerare questo spazio, di renderlo fruibile e di renderlo vivibile. Sarà arredato con degli arredi di legno bellissimi, ci saranno degli alberi piantumati e insieme a Formula Ambiente che ci ha dato una mano anche nella rigenerazione pratica di quello spazio, costruiremo con le scuole ovviamente con i più piccoli un percorso anche didattico e soprattutto sarà uno spazio destinato anche a quel quartiere, uno spazio verde in più che grazie a questa collaborazione istituzionale doneremo alla città.